Dove sei? In un posto dove tu esploderai, Steph! Ti sto cercando! E sono Jason! Non ti voglio incontrare! Non ti voglio incontrare, mi nascondo da qualche parte! Questo labirinto è grande, ma non abbastanza! No, è molto grande, Steph! Sono dietro di te! No, è impossibile! Girati allora! No, non mi giro! E ragazzi, come va? Io sono Fede, Niki! E sono Steph, e questo è giro che è GTA 5! E torniamo con un nuovissimo episodio di GTA! Questa volta siamo pronti a giocare con un nuovo labirinto di Jason! Ne abbiamo trovato tanti fantastici, questo è uno! Quindi sei pronto, Steph? Sì, sono prontissimo! Allora, spieghiamo le regole, dato che magari qualcuno non se le ricorda nello scorso video! Io ho tre minuti per trovare Fede e ammazzarla! Lei invece ha tre minuti per nascondersi e sopravvivere in questo labirinto! Ciao Fede, sono qui! Sì, è dietro di te! Esatto! Allora, tu partirei da qui! E lei, l'unica cosa che potrà utilizzare per difendersi sono le mine di prossimità, che fanno un rumorino quando ti avvicini, quindi se io avrò un orecchio ben attento, riuscirò a sentire queste mine, a sopravvivere, a trovarla e ad ucciderla! Se muoio, lei si fa un punto! Se la trovo entro tre minuti, mi faccio io al punto! Se sopravvive per tre minuti, si fa lei un punto! Tutto chiaro? No! No? Non ho capito i punti! Perfetto, meglio così, meglio così! Scusami, no, non li ho capito! Tranquilla, non li devi capire, perché tanto l'unica cosa che dovrei capire è... Ho perso tre minuti avviati! Devo stare anche in prima persona per forza e con il macette, quindi iniziamo a cercare Fede! Ti ho già visto! Davvero? Sì! Ti ho visto Fede! Sto scappando! Ma non mi ricordo dove ho messo le mine, accidenti a me! Aiuto! Aiuto, aiuto! Stai viva? Sì! Ma perché esplosa? Era lontanissima da me, non capisco! Vieni! No! Vattene! 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 No, comunque dovevo trovare un nascondiglio, sinceramente sarebbe stato meglio! Fede! Non so dove sono le mine! Ho paura! Anche io! Ma siamo morti tutti e due? Sì! Però vedi la mina ha funzionato, cioè mi sono auto-sacrificata ma ti ho fatto fuori! Quindi questo va bene, va bene! È un pareggio, che cos'è esattamente? Oh, la kill l'ha data a me, quindi sinceramente è punto mio! No, è pareggio! Perché si esplode anche tu! Punto mio! Se noi facciamo... Ma sei già partito perché io ti sto cercando eh! No, Fede, io sto preparando le mine per adesso! Ah scusa, è che noioso che sei! Vai dietro un angolo che altrimenti mi vedi andare in giro! Eh, sono più o meno... No, aspetta, lì c'è una mina, oddio! Mi metto qua ferma! Ti ho visto! Ciao, Steph! Ciao! Vai, vai! Che brava che sei! Vai, 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 vai! Dove di avere una brava ragazza! Lo so! Ok, poi ne mettiamo una qua! Sentite i rumori! Mi mettono ansia! Una lì! Ok! Una qui! Hai fatto, Steph? Cos'era? Ne ho fatto esplodere una per sbaglio! Vai! Ha avviato il timer! Vabbè, sono quasi cinque minuti, quindi più o meno come finisce il round il tempo è quello! Vabbè, ha avviato il timer! Ho quattro bombe adesive invece che cinque, perché una l'ho fatta esplodere io stesso! Ah, ok, vabbè, vabbè, ma quella è colpa tua! Allora, dammi un indizio, sei nascosto o stai correndo? Sono nascosto, perché ho paura di esplodere! Comportarmi! Sì, è una buona idea! Io, infatti, non è stato molto bello andare in giro così! Ti ho visto! Allora, è successo questo nella mia mente, io ti ho visto? No, ascoltami, ti ho visto? E ho urlato, ti ho visto! Però poi nello stesso tempo il mio urlo stava coprendo il BBBBB! Quando l'ho sentito il BBBBB! Capito? Era troppo tardi! E siccome poi in prima persona è difficilissimo correre, non sono riuscita a raggiungerti e sono esplosa! Vediamo se mi trova! Ma sei nello stesso posto? Mi stai seguendo, secondo me, sei alle mie spalle, perché sai che io non ti posso vedere! Ma cosa? Ma dove? Io non me lo ricordo al posto, perché sto labirinto è tutto uguale, come pretendi che mi possa ricordare un posto? Sì, ma ho sentito i passi, mi sei a fianco, tipo! No, sto girando da una parte all'altra del labirinto, quindi... Oh, cavolo, lì c'è un'altra mina, meno male che l'ho vista! Eh, tu sì che vedi tutto, Fer! E sei lì, sei lì e ti sei circondato di mine! Ti sei circondato! Ciao! C'è lì e ne hai ancora da questa parte! Già! Come vuoi fare, Fer! Ok, una esplosa e non sono esplosa io! Aspetta, aspetta, devo far esplodere! Ok, sto cercando di farla esplodere per farti fuori, tu nel mente sei scappato! Non mi piace questo gioco! Non ho detto che eri circondato da mine di prossimità! Non le devi fare queste cose, hai capito, Steph? Che non le devi fare! Non mi piace, non so perché ho impostato queste regole! Non mi piacciono, Fer, fanno schifo! Mi è sembrato un po' troppo difficile vincere con Jason, perché comunque questi labirinti sono ben più grandi rispetto agli altri! Quindi, proviamo a vedere! Hai tre minuti per sopravvivere, ti puoi difendere con le molotov e non con le mine di prossimità! Va bene, Fer? Sì, ci sto, ci sto! Tre, due, uno, via! Ok, vai! Ok, quindi ha soltanto le molotov per difendersi! Io ovviamente in prima persona! E vediamo un po' se la trovo! Ferettina, ferettina... Però io ti vedo parlare molto e mollare spesso la tastiera, quindi sei più ferma che in movimento! Di conseguenza, trovare la nostra amichetta non è troppo difficile! Non ce l'ho fatta a darti fuoco, scusami! No, perché sei stata troppo lenta! E come faccio a buttartela? Vieni qui, vieni qui... Con te dietro, come faccio? Eh, è difficile, devi azzeccare il tempismo! Ma mi sono incastrata! Dov'è? Dov'è? Cos'è successo? Cos'è successo? Che mi manca un colpo! Mi manca un colpo! Smettila! Sono vicino! Sono vicino! 3, 2, 1! Un minuto! Basta, no, è troppo difficile in questi labirinti! Non ci si può nascondere, quindi non mi piace! Basta! Bia! Aspettami, sono messa in prima persona! Ok, vado! Vado! Non corri! Io non riesco a correre in prima persona! Prima dici che è troppo semplice, poi è troppo difficile! No, ho sempre detto che è troppo difficile! Siamo a un minuto, Fere! Un minuto è passato! Basta che tu muori! Non è vero! Sì, è passato! Non è vero! Non è passato! Sembroglione! 1, 0, 0! Per farmi perdere! Lo so che le fai queste cose! Certo, certo, certo! Guarda, neanche ti vedo da quanto sei lontano! È snervante giocare in prima persona! Mi fa venire! Sono nervoso! Vorrei solo urlare per 10 minuti e fare il video urlando! Perché è snervante! Accidenti! A te che ti vieni in mente di giocare in prima persona! Ha visto la mia luce? Ho preso il vuoto! Il vuoto! Non ho visto la tua luce! Ho visto la tua stupidità, Steph! Stai fermo! Dai, fatti dare un colpo! Non girare in tondo che mi stai facendo male di testa, Steph! Smetti di girare in tondo! Questa è la mia tattica! Che tattica è? Far venire a mal di testa dato che sei in prima persona! Ah! Ma perché sei troppo veloce? Sei veloce! Fa un bello scatto! Se sono in linea d'aria giusta! Quanti colpi ti ho dato? Uno o due! Ok, quindi me ne manca uno! Aiuto! Sei corso tanto! Adesso puoi tirare le molotov con calma! Esatto! Vediamo un pochettino! Dove sei fin? Dai, Steph! Dove sei? Siamo a due minuti! È insopportabile giocare così! Dove sei? Allora, sei per forza in queste zone! Mhm! Non ti puoi essere allontanato troppo! Io adesso barro e toggo la prima persona! Non ce la faccio più! Pere! Sto per spaccare la tastiera, Steph! La rompo in due! Ma è da bra... Che succede? No! Ecco qua! Questi però sono i momenti belli del giocare! Questo labirinto da pazzi! Mi hanno improvviso fatto e mi ha visto per forza! Mi giro e era lì che correva! Perché stavo guardando dall'altro lato! Pere, ti sei nascosta? Non ancora! Bene, parto! Via! No, smettila! Sono partito! Allora, questo labirinto è un inferno fatto a labirinto! Perché ci sono duemila cose! È impossibile capire in che zona si è! E ci sono anche un po' di nascondigli! Quindi temo che tre minuti per ammazzare l'altro saranno davvero difficili! Questo qui credo che sia l'abirinto più dispersivo che io abbia mai provato in vita mia su GTA! È giusto così! Quindi è davvero, 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 davvero complicato! Però voglio trovare, Pere! Voglio assolutamente trovarla! Io non ho molta visione da qui! Quindi se tu adesso mi sbuchi da qualche parte mi fai avuto un infarto! Eh, lo so, Pere! Ma io sono qua che... Pensa a girare in questo posto in prima persona! No, io... Allora, ovviamente l'ho provato prima di sceglierlo per il video! È stato un disastro! Ce la devi fare! Devi riuscire a resistere! Mi sta avendo un'anti assurda! Ancora 2 minuti e 40! Eh, ma non ho visione! Quindi tra l'altro se sbuchi da qui mi scendono un infarto a me! Anche io, Pere, non vedo davvero nulla! È una roba incredibile! Cioè, in prima persona è impensabile! Te lo dico! È davvero, davvero impensabile! Quello è merito tuo! Tu hai voluto fare l'assassino in prima persona! Sì, ma sto pensando di annullarla per questa mappa! Cioè, perché è davvero troppo difficile! Giocatela io o magari me l'annullo? Perché l'idea è stata tua o è giusta? No! Non mi piace questa cosa, Pere! Non è giusta, non è equa! È talmente difficile che neanche parando riesco a vincere! Lo stai combinando? Guarda il mio schermo! Ma la mano è che mi sono nascosta bene! Come hai fatto a salire lì sopra? Sto delle scale! Ah, ecco! E quindi tu hai perso anche tempo per salire le scale! Bravo, eh! Complimenti, Steph! Non stavo a fare una buona idea! Complimenti! No, non lo è! Non si deve barare! Quindi, muoviti! Ma l'ho detto no! Come va? Sono passati tre minuti! Ho vinto! Due minuti e venti! Ok, ho quasi vinto! Sì! E se non ti ho visto... È grave! Cioè, ero in altissimo! Eh, lo so! Due minuti e cinquanta! Mi sa che ho perso! Mi sa che ho perso! Allora, sono dentro un container! Ormai te lo posso dire, quindi! Eh, li stavo anche controllando, però... Però, no! Non ti ho neanche... Non ho neanche sentito i passi! Quindi tu non sei proprio passato! Cioè, container come questo! Quello dei treni, giusto? Sì! Esatto! Guarda quello! Identico, identico! Però non ti ho sentito! Allora, eccoti! Ok, Ferre! Puoi iniziare! Dai! Me ne vado un po' in giro! A cercare un buon nascondiglio! Sperando di trovarne uno! Per di più, cioè, tipo, sono in un posto che io non sapevo neanche esistesse! Cioè, rendiamoci conto di quanto è grande e dispersivo questa roba! Però, se riuscissi a fare questa cosa, diventerei il genio dell'anno! Cosa stai provando a fare? Eh, non me lo fa fare! Niente! Mi piace, Steph, che i tuoi sogni vengano infranti in questo modo! Aspetta, vedo dei piedi io in questa zona! Eccoli, eccoli i piedi di Steph! Ho visto dei piedini! Dove stavi correndo, Steph? Cosa volevi fare? Dove stai andando? Steph! Scendi, dai! Scendi! Scendi! Smettila di darvi fuoco! Brutto di... All'unico, ma dove... Sei la persona più ridicola del mondo quando scappa! Cioè, sembrano gli seguimenti di Tom e Jerry! Dovremmo essere presi in giro! Qua ci devi mettere quella musichetta che... Oddio, ti ho visto sparire! Quella musichetta che fa ridere quando, ad esempio, Tom... Ma c'è il copyright, Ferio! Non posso metterla! Ma la metti sì! Esatto, la metti! Simile! E io sono Tom, quello che viene sempre preso in giro da Jerry! Ed è uguale! Ti giuro che è la stessa cosa! Ci potrebbero fare un cartone... Ma smettiti! Mettila! Un cartone animato su sta cosa! No, non l'ha capito! Aia! Ok! Ma come sei passato qui? Basta, Steph! Cioè, ma ti ridi conto di quello che abbiamo fatto? Sto and descendendo? Era ridicola quella scena! Avremmo preso in giro per i secoli! Fino a 80 anni ci prenderanno in giro ancora per sta cosa! Voglio la rivincita! Riparte il timer, via! No, non riparti! Mi devo anche cambiare i vestiti, poi! Via, vai! No, devi restare Jason! Sei Jason! Ah, perché sono di nuovo Jason? È perché voglio la rivincita! Ah, sei già nascosto allora! Sì, sì! Vado! Vado! Ti cerco! Ti uccido, Steph! Vai! Cercami! Sei morto? No, non mi trovi! Mi spiace! Sono ben nascosto stavolta! Prima stavo giocherellando con te, ma adesso non è più così! Pensavo di averti visto e invece era un palo! Sono molto felice! Perché Ferre non mi trova! Sono gialli come te! Però sì, stavolta ti sei nascosto bene, ancora non ti ho trovato, eh! Io ti ho visto! Quando? Tanto tempo fa! Però eri una macchietta! Come una macchietta? Sì, perché... Sei in alto? No! Sei in alto? No, no! Io salgo in alto adesso, eh! Ok! Sei nascosto dall'alto, sei sicuro? Non sono sicuro! Faccio parkour 3 container, va! Mancano 50 secondi! Perché ho voglia di fare parkour... Dove puoi essere? Che poi è piccolo sto posto! Alla fine è più il tempo in cui si gira su se stessi che altro! Cosa c'è? Sei in zona? Sei troppo zitto! No, no! Tutto a posto, tutto a posto! Diciamo che la macchietta è diventata una macchiona, proprio di quelle con la Coca-Cola, capito? Che si rovescia nel tavolo, allora la macchia è gigante, tu metti discotex per cercare di riparare al danno, ma tua madre ti prende a cefoni e quindi va così, sì! E gli cefoni te li meriti, tu stai! Mancano 20 secondi! Sì, ma non ti ho trovato! Sei ben nascosto, non so dove sei! Lo so! Ah, è Ferre, è vero qui! Eccoti! Eccoti! Arrivo! Hai 15 secondi, Ferre! Torrendo, eccomi! Ok, vieni! Ero qui! Però dentro! Guarda, vedi? Qui, così! Ah, adesso ti vedo! Stai un po' laggando, Stefano! Tu stai laggando! No, tu stai laggando! Tu stai laggando! Io non laggo! Tu, io no! Tu, io! Tu stavi laggando! Eh, allora non ti ho visto! Ma ti sono passata vicino, per caso! Qui! Lasciateci un like! E se per una volta che vi ho avuto il nostro video, potete considerarli da iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao, alla prestia! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Grazie per la visione!